buongiorno a tutti e benvenuti in questo video tutorial dove tratteremo come compilare la domanda per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia del personale docente del personale educativo una volta entrati nel sito del ministero dell'istruzione del merito basta scendere fino a diciamo le icone in basso dove troverete istanze online e fare clic su istanze online e poi andare ad accedi al servizio cliccando sul pulsante accedi si entra sulle istanze online del nostro sito del ministero dell'istruzione scendendo in basso andremo a scorrere tutte le istanze presenti al sistema tra cui c'è l'istanza che degli elenchi ecco che lo trovate elenchi aggiuntivi delle gradatorie provinciali di supprenza del personale docente ed educativo andando a vai alla compilazione si entra nel in una pagina dove si identifica lo stato della domanda che è per adesso è non inserita l'utente ha dunque selezionato istanza per gli elenchi aggiuntivi alle gradatori provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del ministro dell'istruzione del 6 maggio 2022 numero 112 che l'ordinanza di riferimento dell'inserimento della riapertura delle gradatorie provinciali per le supplenze scendendo ancora c'è una serie di spiegazioni di avvertenze riferite ai dati personali c'è l'informativa sul trattamento dei dati personali scendendo ancora il si parla del del titolare del trattamento dei dati dunque tutta l'informe l'informativa giuridica del trattamento dei dati personali fino a poter accedere e fare accedi con questo tasto si accede alla pagina del inserimento nelle gps in una data provincia vedete in questo caso la provincia di inserimento precedente delle gps e la provincia di varese che non è modificabile perché il docente è già inserito al sistema in quella provincia dunque basta fare avanti e si proseguirà con la compilazione della domanda inizialmente si accede in una pagina dove c'è l'anagrafica del docente facendo ancora avanti si entra proprio nel modello di presentazione della domanda che noteremo a due aree asteriscate con degli asterischi che sono la prima area la l'area di scelte allegratoria di interesse cioè è prioritaria bisogna inserirsi in questa area con per la scelta dell'elenco aggiuntivo di prima frascia dove si vuole entrare e poi in basso c'è le altre dichiarazioni che sono obbligatorie dunque le due aree obbligatorie sono queste due asteriscate le altre aree sono facoltative si possono compilare come no vediamo come si compila la domanda per esempio di entrare in una elenco aggiuntivo di prima fascia per il sostegno si va alle azioni disponibili si fa accedi si trovano tutte le migratorie in cui si è già inseriti ora qua c'è una serie di gradatori dove inserite si fa aggiungi gradatoria dunque si va ad aggiungere una gradatoria preferibilmente dobbiamo anche indicare il tipo di gradatori ecco qui che trovate tutte le prime fasce e dunque sarebbero tutti elenchi aggiuntivi per il sostegno per esempio si clicca sulla tab 7 la tab 3 per esempio per le classi concorso comuni come può essere l'abilitazione per l'insegnamento per la matematica e fisica ad esempio la tab 5 è riferita ai docenti itp della scuola secondaria che potrebbero avere avuto l'abilitazione e dunque passare dalla seconda fascia alla prima fascia vediamo per il sostegno tab 7 si clicca e si entra nel tipo di posto che si vuole indicare facendo clic sul tipo di posto che si vuole indicare si hanno tutti le tipologie di sostegno a d a a eccola di ss sarebbe il sostegno della scuola secondaria di secondo grado se per esempio sia il titolo per il sostegno della secondaria dunque si è fatto per esempio o si dovrà fare un tfa sostegno si clicca qui e si entra su questa tipologia di classe di concorso se per esempio il titolo dovrà essere conseguito entro il 30 giugno 2023 tra le varie opzioni come vedete dunque ci sono le opzioni del titolo nella sezione a punto 1 titolo di accesso all'aggredatore relativo al punteggio in fondo per chi lo deve ancora conseguire c'è una dichiarazione di conseguimento della specializzazione dopo il termine di presentazione di questa domanda ma comunque entro il 30 giugno 2023 cliccando qui ci si impegna a comunicare entro una certa data ecco il titolo dichiarazione abbiamo detto dopo questo si entra in questa ci si impegna entro il 4 luglio 2023 tramite le istanze online di sciogliere la riserva e dunque si clicca qui e si fa inserisci facendo inserisci l'operazione è eseguita e dunque ci si è già inseriti di fatto nella provincia in cui si era già inseriti per le altre classi di concorso ci si è inseriti nell'elenco aggiuntivo per la classe di concorso a dss sostegno scuole di secondaria di secondo grado in coda dunque alla prima fascia speriamo che questa questo video tutorial sia diciamo di utilità a tutti i nostri telespettatori seguiteci ancora perché ci saranno altri video tutorial al riguardo della compilazione di questa domanda arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti